buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi voglio farvi vedere come far apparire il tasto d'app su trust wallet per chi usa ios e quindi un telefono apple molti di voi si sono allarmati per caso al download di questo wallet per collegarsi alla biana smart chain e varie su app non hanno trovato la possibilità di connettersi effettivamente a questi exchange decentralizzati vi faccio vedere come in pochi secondi riuscirete a collegare trust wallet agli swap su iphone aprite il browser safari e digitate quello che trovate in sovraimpressione sul motore di ricerca cliccate ok e poi alla pagina successiva open in trust wallet all'interno di trust wallet avrete la voce browser cliccando su browser vi appariranno tutte le dap tutte le exchange decentralizzati come ad esempio pancake swap per accedere a pancake swap basterà cliccare sopra in automatico si connetterà trust wallet a pancake e potrete fare le vostre operazioni adesso vi ho fatto vedere pancake ma lo stesso funzionamento lo potete avere con tutte le altre dap quindi in pochi secondi avrete la possibilità di connettere il vostro iphone il vostro trust wallet alle dap decentralizzate